3. 22 e 22. CDT. Concordia, Kansas. «Ammazzalo, Johnny! Strappagli il braccio e ammazzalo con quello!» Le travi della palestra afosa e fumosa della Concordia High School risuonarono con le urla simultanei di 400 spettatori e al centro della palestra due uomini, uno nero e uno bianco, lottavano su un ring. Al momento il lottatore bianco, un ragazzo del posto di nome Johnny Lee Richwine, teneva il mostro conosciuto come Black Frankenstein contro le corde e lo stava colpendo con fendenti di judo mentre la gente invocava il sangue. Ma Black Frankenstein, che era alto un metro e novantatré, pesava più di 130 chili e indossava una maschera nera coperta di cicatrici di cuoio rosse e fulmini di gomma, gonfiò il petto poderoso. Emise un ruggito tonante e afferrò la mano di Johnny Lee Richwine a mezz'aria, poi torse la mano intrappolata fino a quando il giovane non fu costretto a cadere in ginocchio. Black Frankenstein ringhiò e gli diede un calcio con uno stivale taglia 46 sul lato della testa, facendolo finire disteso sul tappeto. L'arbitro si stava spostando di qua e di là inutilmente e quando piantò un dito a monitore davanti alla faccia di Black Frankenstein, il mostro lo spinse di lato con la facilità con cui si scaccia un grillo. Black Frankenstein incombeva sul ragazzo caduto e si batteva sul petto con la testa che si muoveva avanti e indietro come quella di un maniaco mentre la folla urlava di rabbia. Bicchieri di Coca-Cola appallottolati e sacchetti di popcorn iniziarono a piovere sul ring. «Stupidi sfigati!» urlò Black Frankenstein con un basso che superava il rumore della folla. «Guardate cosa faccio al vostro ragazzino!» Il mostro calpestò allegramente le costole di Johnny Lee Richwine. Il giovane si contorceva con il volto che mostrava una grande agonia mentre l'arbitro tentava di tirare via l'altro. Con una spinta questi lanciò l'arbitro nell'angolo dove cadde sulle ginocchia. Adesso la folla era in piedi, volavano bicchieri di carta e ghiaccio e i poliziotti locali che si erano offerti per il servizio all'arena restavano nervosamente intorno al ring. «Volete vedere il sangue di un campagnolo del Kansas?» gridò Black Frankenstein, sollevando lo stivale per spezzare il cranio dell'avversario. Ma Johnny tornò di colpo in azione, afferrò la caviglia del mostro e gli fece perdere l'equilibrio, poi gli tolse l'appoggio dell'altra gamba con un calcio, con le grosse braccia che si agitavano, Black Frankenstein cadde al tappeto con tanta forza da scuotere il pavimento e le urla della folla quasi scoperchiarono il tetto. Black Frankenstein si sollevò sulle ginocchia e con le mani alzate chiese pietà mentre il giovane avanzava verso di lui. Poi Johnny si voltò per aiutare l'arbitro ferito e mentre la folla gridava, Frankenstein balzò in piedi e corse verso Johnny da dietro con le enormi mani unite per infliggergli una martellata. Le urla frenetiche dei fan fecero girare Johnny Lee Richwine di scatto all'ultimo istante e lui diede al mostro un calcio nel rotolo di grasso sulla pancia. Il rumore del fiato espulso dai polmoni di Black Frankenstein sembrò il fischio di un battello a vapore. Barcollò per il ring con passi ubriachi e incerti, tentando di sfuggire al suo fato. Johnny Lee Richwine lo afferrò, si chinò e sollevò il corpo di Black Frankenstein sulle spalle per eseguire un airplane spin. I fan si azzittirono per un attimo quando tutto quel peso lasciò il tappeto. Poi iniziarono a gridare di nuovo quando Johnny iniziò a far girare il mostro in aria. Black Frankenstein strillò come un bambino sculacciato. Si udì un suono simile a uno sparo. Johnny urlò e iniziò a cadere al tappeto. Gambe spezzate ebbe il tempo di registrare l'uomo chiamato Black Frankenstein prima di spingersi via dalle spalle del giovane. Conosceva molto bene il suono delle ossa che si spezzavano. Lui era stato contrario all'idea che il ragazzo provasse quella mossa, ma Johnny aveva voluto impressionare la gente di casa. Black Frankenstein cadde al tappeto al suo fianco e quando si sedette, vide il giovane lottatore locale a meno di un metro di distanza tenersi il ginocchio e gemere, questa volta per un dolore vero. L'arbitro era inchiodato, non sapendo che fare. Black Frankenstein avrebbe dovuto essere steso e Johnny doveva vincere questo grande evento. Era quello il copione e tutto era andato bene nella prova generale. Black Frankenstein si alzò. Sapeva che il ragazzo provava molto dolore, ma doveva restare nel personaggio. Sollevando in alto le braccia, camminò a grandi passi attraverso il ring in un torrente di bicchieri e sacchetti di popcorn. E quando raggiunse l'arbitro frastornato, gli disse, con una voce calma e molto diversa dalle sue urla da cattivo, «Mi squalifichi e faccia portare il ragazzo da un dottore». «Eh? Lo faccia subito». L'arbitro, un uomo del posto che gestiva una ferramenta nella vicina Belleville, finalmente fece un movimento a croce, che significava la squalifica per Black Frankenstein. L'enorme lottatore continuò lo spettacolo saltando su e giù con rabbia per un minuto, mentre il pubblico fischiava e lo insultava, e poi lasciò rapidamente il ring per essere scortato al suo spogliatoio da una falange di poliziotti. Durante quel lungo tragitto sopportò il popcorn in faccia, un bombardamento di ghiaccio e palle di carta e gesti osceni da parte sia di bambini che di cittadini anziani. Temeva particolarmente le nonnine anziane, perché una lo aveva aggredito con uno spillone da cappello l'anno prima a Waycross, Georgia, e per buona misura aveva provato a dargli un calcio nei genitali. Nel suo camerino, che era una panca e un armadietto nello spogliatoio della squadra di football, si stirò per eliminare il più possibile i dolori muscolari che provava. Alcuni dei suoi dolori erano permanenti, e sentiva le spalle rigide come blocchi di legno pietrificato. Si slacciò la maschera di cuoio e si guardò nel piccolo specchio scheggiato appeso dentro il suo armadietto. Era difficile definirlo bello. I suoi capelli erano rasati a zero per permettere alla maschera di aderire bene. Il suo volto era segnato dalle molte cicatrici degli incidenti sul ring. Ricordava esattamente da dove era arrivata ciascuna cicatrice. Un gancio sbagliato a Birmingham, una sedia che aveva colpito con troppa convinzione a Winston-Salem, un impatto con il bordo del ring a Sioux Falls, uno scontro con il pavimento di cemento a San Antonio. Gli sbagli nel tempismo causavano ferite reali nel wrestling professionistico. Johnny Lee Richwine non si era bilanciato abbastanza bene da sopportare il peso e la sua gamba ne aveva pagato il prezzo. Si sentiva male per quello, ma non c'era nulla che potesse fare, lo spettacolo doveva continuare. Aveva 35 anni e gli ultimi dieci anni della sua vita li aveva passati nel circuito del wrestling, seguendo le autostrade e le strade di campagna tra arene civiche, palestre di scuole superiori e fiere di campagna. In Kentucky era conosciuto come Lightning Bolt Jones, in Illinois come Brisk House Perkins e in una dozzina di altri stati con simili nomi terribili. Il suo vero nome era Joshua Hutchins e quella notte era molto lontano dalla sua casa a Mobile, Alabama. Il suo naso largo e schiacciato era stato rotto tre volte e si vedeva. L'ultima volta non si era nemmeno preoccupato di farlo sistemare. Sotto delle spesse sopracciglia nere gli occhi erano profondamente incavati e del pallido grigio del fumo di legna. Un'altra piccola cicatrice si avvolgeva intorno alla punta del mento come un punto interrogativo capovolto e i duri lineamenti e gli spigoli del suo viso lo facevano assomigliare a un re africano stanco della guerra. Era grosso al punto di essere strano. Una cosa curiosa che la gente fissava quando camminava per strada. Cresta di muscoli gli gonfiavano le braccia, le spalle e le gambe, ma la sua pancia si stava coprendo di grasso. Il risultato di troppe confezioni di ciambelle glassate consumate in solitarie camere di motel, ma anche con una ruota da camion di scorta di grasso intorno all'addome, Josh Hutchins si muoveva con grazia e potenza, dando l'impressione di una molla strettamente raccolta sul punto di espandersi. Era ciò che restava della forza esplosiva che aveva a disposizione quando era un linebacker dei New Orleans Saints, molti anni e un intero mondo prima. Josh si fece una doccia e si lavò via il sudore. La sera dopo avrebbe dovuto lottare a Garden City, Kansas, cosa che avrebbe significato un viaggio lungo e polveroso attraverso lo Stato. È un viaggio caldo anche, perché l'aria condizionata della sua auto si era rotta qualche giorno prima e non poteva permettersi di farla riparare. La sua prossima paga sarebbe arrivata alla fine della settimana, a Kansas City, dove doveva partecipare a un incontro di lotta tra sette lottatori. Uscì dalla doccia, si asciugò e si vestì. Mentre stava mettendo via la sua roba, il promotore dell'incontro entrò per dirgli che Johnny Lee Richwine era stato portato all'ospedale e che si sarebbe ripreso, ma che Josh doveva stare attento quando lasciava la palestra perché la gente del posto poteva diventare un po' rude. Josh ringraziò l'uomo con la sua voce calma, chiuse la cerniera del suo borsone e augurò all'altro una buona notte. La sua Pontiac grigia malmessa di sei anni era posteggiata nel parcheggio di un supermercato Food Giant, aperto 24 ore. L'esperienza di molte gomme squarciate gli aveva insegnato a non parcheggiare nelle vicinanze dell'arena. Dato che era così vicino al supermercato, Josh entrò e ne uscì qualche minuto dopo con una confezione di ciambelle glassate, dei biscotti oreo e del latte. Partì dirigendosi a sud sulla interstatale 81, verso il Restwell Motel. La sua camera si affacciava sull'autostrada e il rombo dei camion di passaggio sembrava il suono di animali che si aggiravano nel buio. Accese il programma Tonight, poi si tolse la maglietta e si spalmò della pomata Bengay sulle spalle doloranti. Era passato molto tempo da quando si era allenato in una palestra, anche se continuava a dirsi che avrebbe ricominciato a correre. La sua pancia era soffice come un marshmallow. Sapeva che poteva davvero farsi male in quella zona se gli avversari non avessero contenuto i calci e i pugni. Ma decise di preoccuparsi l'indomani della cosa. C'era sempre il domani. Indossò il suo pigiama rosso chiaro e si sdraiò sul letto per consumare i suoi spuntini e guardare la televisione. Era a metà delle ciambelle, quando un breve notiziario straordinario della NBC interruppe le chiacchiere delle celebrità. Andò in onda un giornalista dallo sguardo tetro, con la casa bianca sullo sfondo, e iniziò a parlare di un incontro ad alta priorità, che il Presidente aveva appena avuto con il segretario della difesa, con il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, con il Vice Presidente e altri consiglieri, e che le fonti confermavano che l'incontro riguardava anche il SAC e il NORAD. Le basi aeree americane, disse il giornalista, con una certa urgenza nella voce, sarebbero potute salire a un livello più alto di preallarme. Sarebbero stati mandati in onda ulteriori notiziari straordinari, quando sarebbero state disponibili nuove informazioni. «Non fate esplodere il mondo fino a domenica», disse Josh con la bocca piena di ciambelle. «Devo prima ritirare il mio assegno». Ogni sera i notiziari erano pieni di fatti o voci sulla guerra. Josh guardava i notiziari e leggeva i giornali ogni volta che poteva, e aveva capito che le nazioni erano gelose, paranoiche e matte da legare, ma non riusciva a comprendere perché i capi di stato sani di mente non si limitassero a prendere i loro telefoni e parlassero l'uno all'altro. Cosa c'era di così difficile nel parlare? Josh stava iniziando a pensare che tutta quella storia era come il wrestling professionistico. I superpoteri indossavano le loro maschere e pestavano i piedi, ruggendo minacce e agitando selvaggiamente i pugni l'uno verso l'altro. Ma era un gioco trammaccio, una fanfaronata messa in mostra, non riusciva a immaginare come sarebbe stato il mondo dopo che fossero cadute le bombe nucleari, ma sapeva che sarebbe stato dannatamente difficile trovare una confezione di ciambelle glassate tra le ceneri e di certo gli sarebbero mancate. Aveva iniziato a mangiare gli oreo, quando guardò il telefono accanto al letto, e pensò a Rose e ai ragazzi. Sua moglie aveva divorziato da lui dopo che aveva lasciato il football professionistico per diventare un lottatore. E lei aveva la custodia dei loro due figli. Viveva ancora a Mobile. Josh gli andava a trovare ogni volta che il circuito lo portava da quelle parti. Rose aveva un buon lavoro come segretaria in uno studio legale. E l'ultima volta che Josh l'aveva vista, lei gli aveva detto che si sarebbe fidanzata o sposata con un avvocato nero alla fine di agosto. A Josh i suoi figli mancavano molto, e a volte tra la folla nell'arena intravedeva volti di ragazzi che glieli ricordavano. Ma quei volti li urlavano sempre contro, e lo deridevano. Non valeva la pena, lo sapeva, pensare troppo alle persone che si amano. Era inutile mettere il dito troppo in profondità nella piaga. Augurava il meglio a Rose. A volte desiderava chiamarla, ma temeva che avrebbe risposto un uomo. Bene, pensò, mentre apriva un altro biscotto per raggiungere la crema. Non ero comunque tagliato per essere un uomo di famiglia, no signore. Mi piace troppo la mia libertà, e per Dio è proprio quello che ho ottenuto. Era stanco, il corpo gli faceva male, e l'indomani sarebbe stato un giorno lungo. Forse avrebbe chiamato l'ospedale prima di andarsene, per chiedere di Johnny Lee Richwine. Il ragazzo sarebbe stato più furbo grazie a quello che aveva imparato quella sera. Josh lasciò accesa la tv, perché gli piaceva il suono di voci umane, e si addormentò lentamente con il pacco di oreo in equilibrio sul ventre prominente. «Gran giorno domani», pensò, mentre si addormentava. «Devo essere di nuovo cattivo e forte». Poi si addormentò, russando piano, con i sogni pieni del suono di una folla che chiedeva a gran voce la sua testa. Iniziò un programma religioso. Un ministro parlò di trasformare spade in falci. Poi l'inno nazionale suonò con scene di maestose montagne con la cima ricoperta di neve, di grandi campi ondeggianti di grano e mais, corsi d'acqua, verdi foreste e città imponenti. Finì con un'immagine della bandiera americana, tesa e immobile su un palo, affondato nella superficie della luna. L'immagine si bloccò, restò in onda per qualche secondo, e poi delle interferenze riempirono lo schermo, quando la stazione locale smise di trasmettere.